Buongiorno a tutti, questo è Mirko Primatici da XTB Market Alerts del 23 gennaio 2019, andiamo subito sull'XStation a vedere i prossimi eventi. Domani abbiamo un evento molto importante, la decisione di tassi di interesse della Banca Centrale Europea, abbiamo visto e ci aspettiamo che i tassi rimangano stabili, quindi la possibilità che essi vengano cambiati è veramente veramente minima. Quindi visto che parliamo di euro andiamo subito a vedere il primo cross valutario che riguarda appunto l'euro. Qua abbiamo l'euro-dollaro su un grafico daily, abbiamo visto che l'euro-dollaro ha toccato i suoi minimi in questo punto a novembre ed abbiamo visto che da quel momento in poi ha formato una trend line positiva unendo tutti i suoi picchi minimi in maniera rialzista. Adesso abbiamo due livelli molto importanti, il livello di pavimento qui a 1.1210 e un livello di soffitto a 1.15. Abbiamo visto che c'è stato un falso breakout e questa è stata una cosa molto importante che ha portato di nuovo il prezzo a fare un pullback di nuovo verso la resistenza precedente, la trend line precedente. Adesso un outcome positivo potrebbe portare di nuovo il prezzo a rimbalzare su questa trend line e toccare il target a 1.15 o un outcome negativo potrebbe molto facilmente far rompere questo livello di supporto a 1.13 ed andare a prendere questo target a 1.12. andiamo sul secondo cross valutario, abbiamo l'euro contro il franco svizzero, quello che vedete sul grafico appunto sono delle medie mobili esponenziali, la 1 a 21 periodi e 1 a 8 periodi, quella 8 periodi come ben sapete segue il prezzo molto più da vicino, abbiamo visto che si sono comportati molto bene nell'arco di questo anno, infatti abbiamo visto che quando la media veloce ha incrociato verso il basso la media più lenta appunto ha dato un segnale bearish e viceversa ha dato un segnale bullish, qua non si è comportata benissimo ma subito dopo vediamo qua di nuovo il segnale è stato confermato. Adesso siamo di nuovo in un cross, adesso qui potremo anche pensare che il prezzo appunto se dovesse rompere questo livello di resistenza qua potrebbe avere un risultato positivo e quindi un outcome positivo verso 1.15. Ovviamente un pullback qui risulterebbe molto molto favorevole, molto propenso di nuovo invece ad un ribasso fino a 1.11.8 e addirittura se dovesse rompere questa resistenza ad ulteriori declini. Il terzo cross valutario di cui parleremo è l'euro controllo yen, vediamo che l'euro controllo yen ha avuto un ribasso, un bel picco fino a 1.19.050 in questa candela qui, come vedete poi dopo ha avuto un pullback che ha fatto sì che esso si riavvicinasse alla sua normalità alle sue medie, quindi il prezzo adesso è un pochino più stabile. adesso vediamo appunto che ci siamo, siamo in prossimità del suo livello di resistenza qua molto importante che è stato toccato due volte, quindi stesso discorso, qui possiamo avere un breakout positivo e un breakout positivo potrebbe darci veramente un'ottima opportunità di guadagno su tutto questo arco da 1.125 fino a 1.137. il caso contrario è che il prezzo venga fatto rimbalzare di nuovo su questa resistenza e che esso vada a toccare di nuovo i minimi che sono stati toccati in precedenza a 1.19.050 quindi anche questo cross valutario è molto molto importante. Il nostro quarto ed ultimo grafico che andremo a vedere oggi è il DAX, quindi andiamo a parlare di azionario. Come abbiamo visto l'azionario è stato molto sotto pressione nell'ultima parte dell'anno, abbiamo visto che adesso comunque il DAX sta cercando una risalita, una rivincita, abbiamo visto che negli ultimi giorni c'è stato un picco verso l'alto molto molto importante che ha dato agli investitori quella speranza di cui tanto si aspettavano per vedere di nuovo il DAX, l'azionario, tornare verso i suoi livelli precedenti e quindi ritornare in un trend positivo. Adesso qui vediamo che ci sono molti livelli di supporto e resistenza che sono stati toccati in passato questo che vediamo a 11.000 è molto molto cruciale perché un breakout di questa resistenza qui di questo supporto qui in realtà potrebbe indurci di nuovo ad un movimento ribassista come abbiamo già visto in precedenza e addirittura avere una certa potenza che se dovesse rompere anche quest'altro livello a 10.279 potrebbe spingersi verso il basso ulteriormente. Stessa cosa possiamo dire per questo livello a 11.255, se esso dovesse venire rotto allora a questo punto abbiamo come primo target 11.705 e come ulteriore target addirittura 13.000 molto per lungo termine ovviamente, però una strategia molto molto attuabile. Per oggi è tutto, grazie mille dell'attenzione e ci vediamo la prossima volta.